Le facciate dell'ex caserma Garibaldi stanno già cadendo a pezzi e il caso approda in commissione lavori pubblici. A pochi giorni dalla rimozione dei ponteggi la struttura mostra segni evidenti di scrostature e macchie di umidità, segno di un lavoro che non è riuscito a garantire la qualità promessa. L'assessore Andrea Civati ha spiegato che l'amministrazione sta procedendo nella contestazione dei lavori ma i tempi sono lunghi. La richiesta di rifacimento è stata fatta prima della rimozione dei lavori ha detto l'assessore ma la direzione dei lavori ha ritenuto che fosse più funzionale anche in termini economici rimuoveri comunque. Il rifacimento dell'intonaco sarà quindi eseguito in coda al completamento delle altre opere che dovranno essere sottoposte a collaudo e verifica. Le opposizioni però sono critiche e accusano l'amministrazione comunale di una cattiva gestione del progetto. Grazie.